il progetto di architettura la città hanno sicuramente hanno evidenziato in questi questo anno e mezzo di crisi pandemica alcuni aspetti che probabilmente erano già in essere ma che sono stati così fortemente evidenziati come secondo te gli ambienti di vita hanno reagito a questa tempesta ma diciamo che il covida come hai accennato a come ha messo in evidenza le criticità di questi ultimi decenni perché sia nel mondo del lavoro che nel mondo dell'abitare c'è stata una una spinta a una costruzione molto legata al profitto quindi cioè massimizzare l'uso dello spazio indipendentemente dal fatto che poi le persone stiano bene o meno bene quindi il mondo del lavoro ha subito uno shock non da poco perché comunque si è posta una questione ma torneremo di nuovo tutti nell'ufficio 9 metri quadri a persona e la qualità della nostra vita cioè si è spostato l'asse non soltanto sull'aspetto economico che è stato molto centrale adesso io ricordo bene gli ultimi cinque sei anni in cui deve lo per comunque lavoravano sull'efficienza dello spazio quanto mi costa il metro quadro quante persone posso mettere quel criterio ha dimostrato di essere un limite no perché le persone non vivono secondo gli standard di densità di metri quadrati ma sulla modalità con cui interagiscono c'è lo spazio che hanno per fare le cose quindi quel mondo lì secondo me ha avuto era assolutamente necessario ha avuto quindi era una prova che forse quel metodo non era quello giusto e quindi ha riposto la questione di come torniamo a lavorare al di là dello smart working o il working in presenza che sono cose che forse sì sì qualche modo si metteranno un po insieme non sarà tutto in presenza non sarà tutto e smart working ma secondo me si sono aperti degli scenari anche per avere delle modalità di lavorare per vivere meglio perché lo smart working non è soltanto lavoro lontano dal mio posto di lavoro lavoro a casa perché ho i figli perché ho bisogno del mio tempo o del tempo che posso dedicare in un certo momento alla giornata quindi va un po nella direzione di costruire un modo di lavorare per vivere meglio questo secondo me è un po il messaggio più forte del post covi che come dicevamo era comunque assolutamente necessario è chiaro che anche il mondo dell'abitare ha fatto lo stesso discorso non nelle città i prezzi metri al quadro sono talmente alti che alla fine si è costruito sempre più densamente 20 metri quadri 26 metri quadrati 40 metri quadrati e non è un bel vivere cioè devo onestamente non è un bel via poi se non c'è neanche un terrazzo diventa veramente una prigione quindi anche quella questione ha fatto riflettere il mondo dello sviluppo della residenza non solo minimizzare lo spazio ma costruire dei luoghi da abitare dove ci siano anche altre opportunità non le cose più recenti che stiamo facendo forse il tema dello smart working non va solo visto lavoro a casa nella mia stanza dove c'è i figli che fanno casino oppure c'è la cucina che qualcuno sta cucinando credo che non sia tanto l'ambiente su squisitamente domestico ma potrebbe essere invece quella del condominio c'è di una piccola collettività che organizza all'interno di un edificio degli spazi più flessibili per dire lavori smart working ma esco dal mio appartamento sto di fronte al terzo piano dove c'è uno spazio per lavorare ecco credo che quello abbia creato una anche un'opportunità nuova del rapporto con il mondo dell'abitare col mondo del lavoro che era forse un po un po ingessato non può però il segnale secondo me al di là del dramma perché è stato un dramma umano e sociale economico quindi sono tutta una serie di conseguenze però forse questo covi da veramente posto le questioni di questo fine di questo secolo che abbiamo siamo lasciati dietro ne abbiamo iniziato un altro su una spinta un po troppo forse legata a questa visione solo economico finanziaria non ci siamo un po messi da parte si è un po messo da parte il fattore umano come vivono le persone lo tema anche sulla città nel dibattito è stato molto ampio quindi si riapre e secondo me uno scenario di progettualità e che è un po anche quello che è successo facendo una battuta in cui gli architetti sono veramente poco considerati in questo paese o comunque non sono chiamati a parlare nella società pubblica l'anno dell'anno e mezzo della pandemia sono stati sollecitati dal mondo dei giornali dalla cultura ma architetto come vede la città del futuro se me lo chiedevi dieci anni fa magari ne avremmo cominciato a parlare no ah ma il modo di lavorare come vede lo smart work si potevamo parlarne anche prima e avremmo forse fatto un passo in più per quello che dico anche gli architetti sono figure importanti non è la società civile sono figure che in emergenza come questa vengono chiamati a dare delle risposte la sky se le ascoltassero un po di più un po più costantemente forse magari questa barra del profitto e dell'efficienza magari avrebbe presa anche un'altra piegano in una in un rapporto più del mondo del lavoro della vita che noi tutto l'obiettivo di questo tempo oggi la discussione si è spostata tutta come facciamo a stare meglio insieme no non volevo riprendere il tema della biennale di venezia che è una domanda che dovrebbe avere un punto interrogativo alla fine non una domanda è come dire non viviamo insieme già ci viviamo già insieme come ci vivremo mi sembra la domanda un po un po particolare onestamente nel nel logo stesso di questa edizione della biennale abbiamo pensato a un abbraccio un abbraccio sotto una un arco un arco pisano che un arco gotico però è il tema dell'abbraccio cioè sentiamo proprio il tema renaissance di questa edizione parte proprio da lì cioè rimettere l'uomo al centro e e da lì ripartire cioè questa è la condizione macro secondo secondo noi che dovrebbe far ragionare su ogni su ogni aspetto e si parlava prima del discorso della dell'abitazione di di non pensarla quali possono essere quei quei micro interventi che si potranno essere messi in gioco ma non risolveranno uno dei temi della della biennale è la casa del quartiere cioè il quartiere secondo noi in qualche modo da una grande mano quegli spazi e quindi anche con i vostri progetti sembra che insomma che stiate andando in questa direzione e se ci puoi parlare di alcuni esempi sono state lavorando se la domanda è come dire è un po è come dare una risposta una domanda che è stata poi mal posta da tempo no su come vivere meglio nelle nostre città no anche perché devo dire la verità che questo tema delle città che è stato oggetto di una grande discussione anche durante la pandemia andiamo a vivere in campagna andiamo tutti a fare i contadini in campagna tutto quello è stato buona reazione forse anche un po eccessiva perché la città è comunque un luogo di grande opportunità forse possiamo ripensare a come vivere meglio in città adesso non credo che ci sarà una transumanza nelle nei grandi borghi italiani anche se sono bellissimi perché in effetti la città anche il risultato di un processo culturale non è soltanto un processo speculativo è la città siamo un po noi siamo come siamo fatti come è fatta la nostra cultura e bisogni che abbiamo questo ripone un po la questione al centro di dire ma allora adesso che cosa dobbiamo cosa possiamo farvi poi in italia è quasi già tutto fatto non è che noi stiamo pensando di costruire il paese nel paese è quello che è già fatto quindi ci sarà da capire come intervenire su quello che c'è ed è un argomento di tempo fa no il tema dell'efficientamento del parco immobiliare degli anni città c'è un tram è un mantra che conosciamo da vent'anni trent'anni che per oggi aggiunge una cosa in più uno che finalmente abbiamo capito che migliorare le performance un edificio non è solo un fatto tecnico è un fatto di welfare cioè se tu a un edificio che in povertà edilizia cioè fatto di niente poco non isolato insalubre aggiungi degli elementi tecnici come può essere appunto un cappotto una finestra a doppio vetro una caldaia nuova tu hai fatto un'operazione di mercato viene perché hai creato una condizione di distribuzione del lavoro che mi sembra importante dall'altra parte hai messo le persone nelle condizioni di vivere meglio quindi alla fine se uno lo va a vedere l'investimento che possiamo fare nell'architettura ha una conseguenza immediata sui costi del welfare perché se le persone vivono meglio hanno una condizione di vita migliore che vuol dire che probabilmente scendono alcune malattie ci sono meno casi di malattie croniche cioè quindi va visto un po come un sistema complesso no quella della della città il quartiere sono d'accordo non dobbiamo guardare l'appartamento che se ci chiudiamo dentro l'idea dell'appartamento del futuro noi non abbiamo un terrazzo facciamo questo però ci sta tutto è perché poi nei monoblocchi senza terrazzi il fatto di fare terrazzo fuori va benissimo nell'operazione di ci sono architetti che ci hanno vinto un pres che su questo che va benissimo e secondo me hanno fatto fanno un lavoro straordinario però non può essere quella l'unica politica quindi oggi per ripensare alcune aree di per esempio a milano dove stiamo lavorando ci sono delle aree di sviluppo c'è una domanda di residenza a milano non so fino a quanto durerà però che che rappresenta un numero che assolutamente inarrivabile dal punto di vista del dei tempi di costruzione no quindi c'è una mobilitazione sulle aree ferroviarie su su delle aree dismesse su quindi su questi quartieri nuovi abbiamo la possibilità di ripensare questa questa idea di come abitare insieme noi siamo ormai il cantiere da un anno e mezzo a sei milano che è una zona bisceglie quindi stiamo parlando di una parte di milano che poi milano è grande ma quasi a bisceglie sale al quinto piano vede il luomo quindi diciamo ci sono dieci stazioni metropolitano per la città come dire ancora abbastanza la portata di visi e famosi 15 minuti anche 20 però insomma vai già lontano e quindi ripensare quel quartiere vuol dire ripensare alla modalità con cui per esempio ci sono gli edifici costruiti abbiamo detto sono case accessibili quindi a dei prezzi su dei mercati che sono totalmente scoperti però questo non vuol dire costruire degli edifici poveri no perché non è che se vendi a poco e devi farli a poco è un quartiere dove ci sono dei palazzini alte sei piani quindi abbiamo deciso di non fare dei palazzoni ma degli edifici più bassi che hanno di fronte un grande parto un grande parco pubblico e all'interno di questo sistema di palazzine e c'è tutta un'area pedonale quindi non ci sono le macchine quindi chi esce di casa attraversa un grande giardino che connette tutti questi 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 ingressi le hall degli edifici sono un po più grandi perché ci sono dei divani dei salotti dove uno può anche fare una riione incontrare un amico e nel palazzo sono dedicati alcuni spazi sia per il gioco dei bambini il famoso compleanno che è un disastro familiare oppure un luogo dove possono anche lavorare allora è un po la l'idea che il quartiere è un po un luogo comune dove c'è una parte di comunità alla fine stiamo discutendo di resilienza di comunità però l'architettura gioca un ruolo importante nella modalità con cui le comunità vivono perché lo spazio condiziona poi comportamenti quindi è questo credo che sia un po il filone e adesso milano ci sono anche altre città però diciamo in questo momento il focus e su una città che sta affrontando una serie di sfide come le olimpiadi il cambio delle aree ferroviarie con tema di che ferroviare ferroviare sono in tutto il paese non a milano però a milano ha avuto se non altro il coraggio di affrontare questa contemporaneità il tema dello spazio collettivo che è uno degli indirizzi di ricerca della nostra biennale anche a nostro avviso è un elemento fondamentale per la progettazione noi veniamo veniamo anche da un paese dove questa storia è lunga mille anni sui spazi collettivi cioè noi abbiamo delle città che sono nate così cioè noi abbiamo costruito le piazze abbiamo fatto a bologna abbiamo fatto i portici elettricità abbiamo fatto i grandi prati comunque è una storia non solo italiana ma insomma gli uomini che costruiscono le città per stare insieme quindi vogliono gli spazi collettivi certo ed è un po quello che ci è mancato alla fine quando siamo rimasti chiusi in casa per un tot di mesi così ci sono anche le cose che sono mancate sono le cose che costano meno che questo è il punto no cos'è che ci è mancato andare in giro a fare un giro nel parco costo zero un giro in bicicletta incontrare gli amici fare delle serate a cena insieme cioè alla fine questa società che è piena di consumo quel consumo di anno ci è servito a niente non è che avevamo bisogno di fare un giro in macchina bisogno di incontrare giorgio avevamo voglia di incontrare massimo avevamo voglia di stare insieme quindi ti dà un po anche l'idea che nel momento in cui stressi questa società alla fine le cose di cui hai veramente bisogno sono quelle che costano meno quasi come se si autodifendesse qualche modo però in questo momento ci sono delle contraddizioni che sono paradossali no perché da una parte siamo pieni di informazioni e c'è un degrado della cultura ma come è possibile che ho accesso a informazioni posso studiare quello che voglio posso leggere quello che voglio e dall'altra parte c'è un sistema che invece che cresce dal punto di vista culturale ricerca c'è una parola oppure c'è un infinità di informazioni di cui non siamo più in grado di sapere se sono vere o false cioè c'è un tema di ecologia dell'informazione perché non c'è solo l'ecologia delle piante come facciamo a gestire un mondo in cui non sappiamo se quello che si dice giusto o sbagliato oppure vero o falso giusto o sbagliato è già un po più sofisticato questa parte del concetto noi siamo natura a noi a me personalmente affascina affascina tantissimo dobbiamo riponendo l'uomo al centro riconnetterci con la natura uscendo dal dualismo uomo natura ma su un nuovo aspetto di riconquista che è natura natura cioè noi siamo natura e su questo mi riallaccio a un'idea che volendo trovare un filo conduttore nella tua produzione nella produzione del vostro ufficio è quella a mio avviso di trovare quel genere di relazione con l'ambiente che per citando Stefano Mancuso il discorso di intelligenza diffusa che è propria delle piante che è diversa dalla nostra che siamo un organismo a intelligenza centrale e che però dalle piante abbiamo tantissimo da imparare soprattutto nella percezione dell'ambiente ecco mi sembra che questo tipo di ricerca verso l'intelligenza diffusa degli organismi edilizie sia un po al centro della vostra ricerca sì abbiamo avuto questo dialogo con Stefano Mancuso che ha aperto una porta su un mondo che forse conosciamo ancora troppo poco che quando parliamo di futuro ci immaginiamo sempre un futuro tecnologico invece forse il futuro si nasconde proprio invece nello studio di quello che c'è a fianco a noi questa pianta qui queste piante dietro di noi hanno 4.5 milioni di anni c'è la loro presenza nel pianeta di 4.5 milioni quindi solo a pensare che in questi milioni di anni quelle piante abbiano dovuto attraversare aeree glaciali cambiamenti climatici stravolgenti cioè fa sì che spiega bene questa idea dell'intelligenza collettiva perché è un organismo che nei milioni di anni si è dovuta adattare a mille trasformazioni eppure è quella che ha permesso a questo pianeta di avere l'ossigeno perché se prendono il co2 lo trasforma in ossigeno è perché quando sono nate c'era solo il co2 cioè questo è il meccanine che lo fanno per noi lo fanno perché era l'unica cosa che c'erano no quindi questo tema del rapporto con il mondo delle piante è ancora un mondo che ci può dare tante indicazioni soprattutto nell'edilizia che pur essendo il mondo costruito una storia anche questa millenaria anche se noi rispetto alle piante abbiamo un deficit di 4 milioni e 300 mila anni l'uomo sabbia sono 150 200 mila anni forse meno il più intelligente ancora meno 50 milano quindi tu però pensare che gap storico di adattamento c'è a una condizione del pianeta enorme no allora mancuso ci risveglia questa cosa si dice ma forse noi dobbiamo studiare i comportamenti capire come si adattano perché hanno quella forma perché riescono a vivere nei posti più estremi del resto noi anche no ci siamo adattati a vivere il polo nord come nel cuore del sar quindi abbiamo una capacità di adattarci però nei secoli abbiamo costruito edifici che avevano un problema di fondo cioè le risorse erano quelle che erano cioè c'era quello appunto non c'era l'energia non c'era il gas non c'era la luce eppure abbiamo fatto città neanche abbiamo fatto che aveva fatto delle città quindi vuol dire che quel componente tecnologico che è ovviamente ha permesso al mondo di fare un viaggio in un tempo brevissimo accorciato tutti i tempi perché abbiamo costruito l'incostruibile in un tempo molto breve però ci ha presentato poi un conto salatissimo per cui è vero che l'espansione l'economia siamo tanti milioni miliardi di abitanti abbiamo costruire le case per la gente per carità però noi siamo partiti come una scheggia su una visione del mondo molto tecnico e ci siamo dimenticati che abbiamo a che fare con il clima abbiamo a che fare con le materie le materie sono quelle che sono un mondo finito dal punto di vista numerico non so quelli è una sfera tutto lì non c'è altro quindi l'insegnamento di mancuso non è tanto che dobbiamo fare gli edifici con gli alberi perché quelle sono due cose messe insieme che insieme non ci stanno perché è comunque una vasca di cemento dove dentro ci metto una pianta ma non è che è un progresso è un alibi perfetto noi dobbiamo capire come prendere una lezione di una pianta e capire come è stata capace di adattarsi e dove sta il segreto che è quello che a noi ci interessa esplorare edificio macchina edificio pianta e passaggio in avanti e quanto un edificio con le con l'innovazione tecnologica della materia perché è difficile fai un blocco di cemento quello se fa caldo fa caldo se fa freddo fa freddo non c'è verso però l'evoluzione è nel dna e come il dna di una pianta cioè c'è un materiale che reagisce a un comportamento ambientale quindi va bene anche un vetro che è altamente costoso al punto di vista energetico no però un vetro può svolgere una funzione senza bisogno di altre energie no filtra non filtra fa tiene il calore manda fuori il freddo cioè se mettiamo insieme non tanto l'idea muscolare della tecnologia cioè gli impianti questa roba che è un po come il nostro sistema nervoso se prendi un colpo nella testa il tuo corpo è finito noi dobbiamo immaginare che si taglia un ramo di una pianta mica muore quello ricresce pensate che differenza che c'è tra noi e loro cioè c'è una differenza enorme no quella non muore mai anzi quella si riproduce da sola quindi questo tema di a trasformiamo questa idea della materia come la materia intelligente vuol dire che io potrei immaginare in tempi anche abbastanza vicini di costruire edificio un costruire edificio che non ha bisogno neanche dell'energia e quello sarebbe il massimo che l'unica energia che prende è quella che trova intorno a sé qui ci siamo detti tante volte poi c'è una letteratura sconfinata no che se prendessimo il 5 per cento della radiazione solare avremmo coperto i bisogni energetici il problema non è così semplice non è che non è che l'energia non è che la trasformi dal sole a elettrica in un attimo no c'è un processo complicato allora forse non imparare anche dalla forma come come voi lavorate per esempio sono rimasto molto colpito leggendo alcune cose vostre sul sul cactus che con la sua forma corrugata in qualche modo si fa ombra da sé quindi quel tipo di atteggiamento verso l'ambiente come dicevamo prima di totale empatia verso l'ambiente di delle piante il cactus per un verso altre per un altro riuscire a capire questi segreti e a trasformarli in architettura da pensare all'esperienza del moderno straordinaria negli anni 30 eccetera però rispetto alle esigenze attuali sono però vivevi che si viveva proprio non è proprio un'altra epoca il novecento è stato veramente un se novecento è stato uno degli anni tra un polino anche della storia umanità per tanti versi però un po l'invidio quel secolo in cui avevamo davanti una sconfinata fiducia su tutto no cioè bellissimo ci abbiamo fatto i paesi del mondo le ha costruiti dopo il disastro del novecento due guerre mondiali la shoah e nazismo il fascismo è successo la bomba atomica il novecento è successo di tutto nonostante è successo di tutto dopo la seconda guerra mondiale e un paio di bombe tirate giù questo mondo ha continuato a credere a un futuro pazzesco è una cosa che l'invidio anche alla generazione dei miei genitori che negli anni la luna che negli anni 60 nonostante avessimo dietro questo dramma dell'umanità siamo riusciti a fare le robe più pazzesca oggi quel pensiero lì non funziona più uno perché si è spostata è successo una cosa che la pandemia ovviamente ci ha aiutato a capirlo però il conto che è arrivato dal punto di vista ambientale è cominciato arrivare nell'opinione pubblica perché la gente dice adesso io e te noi ce la possiamo anche raccontare però quando cominciare se c'è un alluvione 2345 o la siccità di qua e di là i tornai di tutto diceva forse mi hanno distrutto la casa ho perso la macchina non riesco andare a lavorare c'è un problema anche sulla mia vita non è soltanto sugli scienziati quindi negli ultimi anni questa cosa è entrata nell'opinione pubblica cioè l'opinione pubblica come certe dire effettivamente c'è un problema e questo però ha fatto un po pensare a tutti quanti che forse questa fine questo periodo che speriamo sia verso la fine ma questa parola che si usa tanto dell'antropocena cioè il mondo al centro l'uomo al centro l'universo questo periodo dell'antropocena è ben rappresentato da questo affresco di diego rivera a città del messico dove la rappresentazione della fiducia infinita delle capacità dell'uomo di governare il pianeta e più è questo uomo in questa macchina che governa dalle stelle alle molecole al pianeta gli uomini cioè c'è questa idea che noi siamo quelli che possono gestire e controllare tutto ora tutta questa roba meravigliosa di un grande sogno diciamo di governo del mondo che è anche un po un sintomo anche di una paura perché noi di quello che non conosciamo abbiamo paura e molte cose non riconosciamo quindi le governiamo attraverso questa aggressività ecco quel mondo li ha cambiato oggi noi non siamo più lì dentro in questo mondo che vogliamo governare noi siamo qui e poi c'è tutto il mondo qua no perché la presenza più massiccia sul pianeta sono le piante numericamente poi ci siamo noi bisogno gli animali quindi allora se tu però sposti il centro non sei più al centro dell'universo ma se su un lato e sai quanto quanto pesi allora magari poi un dialogo vai a cercarlo con quell'altro mondo che c'è intorno adesso mi ha riscoperto che non ci siamo solo noi questa parola orrenda i non umani i non umani sono chi sono se le piante gli animali uccelli via scoperti ci sono anche loro quindi questa cosa qui secondo me è un riflesso interessante perché ci fa riflettere sia su come l'architettura può prendere una strada che non può essere a forma di una pianta naturalmente perché poi l'architettura bisogna ricordarsela non è una cosa che nasce spontaneamente anche spontaneamente l'architettura spontanea ma quello un altro discorso architettura risposta una domanda di un qualcuno che ci mette le risorse c'è un tema urbanistico c'è un tema di norme cioè non è così semplice fare questo mestiere con tante ambizioni perché le ambizioni sono importanti però poi lo devi mettere dentro a un sistema che è quello per esempio delle norme no quindi le norme sono infinitamente più indietro rispetto alle ambizioni che abbiamo in questo momento cioè le normative non sono adeguate a questo salto che vogliamo fare no come possiamo noi architetti in qualche modo riuscire a incidere in questo mondo così complicato ma guarda secondo me è una domanda fuori fuori programma ma no però è importante perché secondo me è il tassello noi l'anello mancante come stavi dicendo tu del tra l'idea la visione e il mondo che giustamente è complicato il mondo della gestione della cosa pubblica delle leggi e ben noi in italia siamo complicati un po parecchio la vita per cultura però perché secondo me gli architetti saranno sempre più importanti adesso magari non solo anche i designer anche gli artisti per una ragione che anche abbastanza semplice no dopo questi questo secolo che abbiamo vissuto abbiamo parcellizzato la conoscenza l'abbiamo divisa in tanti piccoli segmenti che ha permesso al mondo di crescere anche molto perché io mi occupo solo di quel piccolo segmento del mercato e la mia visione però è quella lì cioè sto lì dentro per faccio le lampade sono industria di lampade e faccio quelle del mondo lo vedo come lampade dopo quando l'è segmentato tutto a un certo punto di siano resi conto e la sintesi di questo chi la fa cioè qual è la figura che prende tutti questi pezzi e disegna o dà un'immagine a questo mondo la politica è scomparsa perché aspettare non ha più capacità visionaria la parola creatività in politica è uno simolo in questo momento quelli sono spariti o comunque sono ci sono stati molto tempo fa e oggi non ci sono più i filosofi pochi e poi sono importanti perché sono quelli che mettono insieme i pezzi e ci danno una strada per capire dove vogliamo andare e poi ci sono gli architetti sono anche lo dico perché sono architetto però il lavoro di architetto un lavoro di sintesi la mette insieme competenze tante e gli do una forma di donna estetica no quindi ho l'impressione che nonostante ci sia grande reticenza a lavorare con gli architetti a considerarli importanti nello sviluppo di una società sia di fatto uno dei ruoli fondamentali per lo sviluppo di una società perché sono quelli che a cui chiedi come sarà la città del futuro ma è una domanda politica una domanda economica una domanda di costruzione cioè dentro attenzione allora perché lo chiedi a me e non lo chiedi a un ministro a un ministro non glielo chiedi non perché tanto lui non ti risponde comunque farebbe una risposta molto varia quindi ho l'impressione che in questo fine questa fine di questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle è iniziato questo nuovo si stiano un po rimettendo a posto forse dei tasselli in cui il lavoro di un architetto che è un umanista un visionario un creativo poi anche un tecnico che poi è difficile anche costruirli conosce le norme conosce quella complessità e forse uno dei pochi mestieri che maneggia una materia così complicata no è quello che dico sempre attenzione per fare l'architetto non è un mestiere facile è un mestiere difficile perché devi avere a che fare con tutto poi devi anche fare delle cose belle e fare innovative e fare ecologiche devi farli in una città devi studiare le norme devi avere a che fare con un budget deve funzionare ci devi abitare bene devi essere felice ecco tutto questo all'interno di un luogo dove lavoriamo per gli altri no quindi è per quello che dico che è importante questo mestiere no è uscita in qualche modo la domanda sulla forma dell'architettura è appena finito dire che deve essere bella funzionale rapportarsi alle persone al committenze eccetera eccetera una delle cose che forse interviene oggi nella forma dell'architettura che riuscite a dare architetti e la ricerca che si fa con chi rende possibile la realizzazione dell'architettura quindi le aziende lo standard l'industrializzazione ma che che sempre di più spinge un po in alto no l'asticella siete anche voi a farlo alcuni edifici hanno una certa forma una certa pelle perché esistono certi codici dove si sta spingendo la tua ricerca nostra ricerca ma intanto si è aperto uno scenario sul tema delle nuove materie che vengono dal mondo del riciclo dei materiali che in realtà sembravano delle materie come dire un po di seconda categoria in realtà sono nobili nobilissime perché al di là di essere anche molto bello adesso penso le ceramiche al cento riciclati pannelli di truciolare dove non si usano gli alberi ma si usa tutto lo scarto o altri ma anche gli intonaci che assorbono l'umidità c'è un mondo che che sta guardando al recupero delle materie per trasformare in materia nobile ecco secondo me su quello lì sì su quel principio si sta come dire anche lavorando sull'idea di che cos'è il concetto di bellezza che non è solo un fatto estetico è facile è anche un valore cioè dentro per la materia c'è un valore a cui dopo è anche un valore estetico cioè quindi adesso abbiamo visto molte ma c'è un moltissima azienda ed è su questo di siccome il paese non so pesca si parla sempre male in realtà sulla green economy e sui prodotti edilizi che vengono dai mondi del recupero l'italia ha una delle grandi leadership per una ragione molto semplice che noi veniamo da delle culture dove il rapporto con la materia è sempre stato scarso quindi noi abbiamo un dna quindi le aziende che poi sono le nostre dire sono veloci sono non sono statiche non sono grandi se uno pensa al lavoro di nervi no a quello che ha inventato perché non avevamo l'acciaio oppure il buxus come materiale autarchico no quello che stai dicendo è vero la nostra storia italiana è stata brava a riutilizzare o a creare nuove attività però in quel mondo lì anche la piccola e media industria ha dato una grande mano perché avere capacità di adattarsi ai mercati così rapidamente non è semplice per un'azienda molto grande il fatto che ci siano aziende curiosi imprenditori che hanno così voglia di mettersi in gioco fa sì che in realtà in italia esporta all'estero gran parte dei prodotti che vengono dalle filiere del recupero del riciclo di materiali o la seconda vita dei vetro della ceramica piuttosto che del legno o adesso ci sono questi materiali fatti con le carte recuperate che sono uno dei pannelli che si usano anche in esterno quindi quel mondo lì mi sembra un mondo interessante per cui quel materiale di là che sono comunque belle esteticamente hanno anche dei valori anche io credo che su questo l'architettura dovrebbe dare una risposta che non è solo una non è solo estetica di una forma che fa la bellezza ma perché quell'edificio risponde a una domanda di quel momento dal punto di vista ambientale della filiera del fatto che produce meno co2 perché usa materiali che vengono da quelle filiere quindi è un momento anche molto interessante molto di pieno di opportunità tu hai curato padiglioni importante per la biennale di venezia però come dire questa biennale di pisa è giunta alla quarta edizione una tua idea un tuo messaggio su questo tipo di iniziative sul territorio noto hai fatto anche appunto il padiglione italia un'analisi anche sul territorio italiano che significato hanno secondo te questi queste proposte ma io vengo dalla mia esperienza a noi fare il padiglione italia costato in termini di tempo un anno e mezzo di ricerca e questo ti dà anche l'idea del senso di fare questi eventi questi eventi hanno senso se dietro hanno prodotto un lavoro di ricerca che altrimenti non lo potresti fare qui non è solo l'esposizione dei progetti che aveva parte diciamo del anche del senso ma è quella di individuare dei gruppi di architetti ingegneri economisti quelli che sono che per un anno per due anni portano avanti una ricerca e la biennale è l'espressione di quel punto che è stato portato un po più avanti perché non basta mostrare i progetti perché quelli ormai siamo in un mondo in cui i progetti li vedi quando vuoi come vuoi te li te li guardi anche sulle reti su e non è neanche tanto la novità è proprio quello di creare dei luoghi dove la ricerca in architettura sulle materie sempre è scarsa nella comunicazione quindi una biennale è questa porta avanti un prodotto che arriva alla fine lo presenta ed è molto educativa perché poi molto spesso queste mostre attraggono moltissimi giovani che hanno fame di informazione hanno fame di vedere l'innovazione hanno fame di capire come può essere anche il loro percorso quindi ha uno scopo anche l'impatto sociale e culturale molto importante quindi ha un senso farle però forse con dei filoni di ricerca molto mirati per cui questa biennale parlate della casa del lavoro oggi è una domanda che è sul tavolo le risposte non sono molte quindi andare in un luogo dove queste risposte le trovi secondo me occupi un settore di un mercato che è quello della comunicazione dell'architettura che ha da una parte un modo come dire estemporaneo veloce no di comunicare e dall'altro un percorso più lento di ricerca per rappresentare quello che al futuro no questo siccome dovrebbe essere un po il senso sì effettivamente lp la nostra associazione con la biennale di architettura di pisa lavora su questa esperienza di laboratorio sulla città lavorando appunto sul doppio registro tra gli esempi internazionali che possiamo vedere con questa ricerca di cui parlavamo nel panorama internazionale cercando di applicarle anche sul sul territorio quindi come un esempio questo questo doppio livello un altro aspetto che ci ha colpito molto parlando anche tra tra noi in particolare mentre parlavamo anche con la nostra collega curatrice silvia lucchesini il progetto tecla che abbiamo visto che è un progetto particolare sotto due aspetti uno perché si apre a questo a questi nuovi scenari della della stampa di un edificio che è un qualcosa di veramente particolare che piacerebbe tu ci raccontarsi e dall'altra comunque c'è questa continuità quel paesaggio cioè noi andiamo a costruire in situazioni con queste tecnologie innovative però sempre da architetti guardando alla storia del luogo alle caratteristiche climatiche ea tutti questi aspetti è un altro una un'altra situazione che ci ha colpito molto per sia per l'atteggiamento e la visione culturale ma anche proprio per la difficoltà tecnologica è il progetto della fondazione rovati sulla parte dell'esposizione etrusca si può parlare di questi due progetti ma l'esperienza dei tecla è un'esperienza molto particolare intanto è una stato una condivisione insieme a wasp che è una società che produce stampanti di massimo moretti che aveva avuto lui all'inizio un po questa idea di dire ma io faccio le stampanti però perché non usiamo una materia naturale quindi che è un dibattito che sta girando per l'europa per gli stati uniti adesso ormai di germania le stampano già le case le vendono cioè la puoi comprare una casa stampata in cemento c'è hanno capito che il mondo della stampante un po la nuovo mondo dell'impresa cioè la velocità un materiale tecnico molto preciso che accorcia tutti i tempi perché alla fine parte da un progetto sofisticato di architettura tecnica e lo metti dentro a un computer che ha i codici e codici arrivano una macchina stampa fa una casa punto finito chiaro che questo interessa molto a chi vuole produrre le case con altre tecnologie che vuol dire non c'è i ponteggi non c'è i casseri non c'è poco ma la macchina elettrica che ha una riduzione di componenti no questo è un po il trend che sta avvenendo sembrava un po fantascienza anche 10 15 anni fa no c'erano le case le prime cose stampate sembra adesso c'è un livello molto sofisticato come ovviamente prima eravamo ai plastici ora siamo passati siamo passati dai plastici agli oggetti agli oggetti un po più grandi e adesso una casa è un processo un pochettino più complicato fa degli oggetti fare una casa però ci lavora tutto il mondo dell'industria anche perché l'industria si trova davanti a un problema al di là che c'è bisogno di costruire ancora ahimè per quanto si per quanto vogliamo negarlo c'è un tema di popolazione dall'altro c'è un tema di uso delle risorse quindi anche stampato con una macchina si ottimizzano le quantità di risorse di materiale però tecla nasceva un po da questa idea di rompere un paradigma se oggi abbiamo un'agenda così ambiziosa ed è giusto che sia ambiziosa 2030 2050 l'obiettivo 2050 che sembra lontanissimo ma è alle porte di avere una riduzione dell'80 per cento di emissione di co2 quando nonostante gli accordi di parigi del 2015 la core su 2 comincia a crescere è piuttosto impegnativa la domanda che l'obiettivo allora adesso da quest'anno dal 2021 gli accordi di parigi vengono misurati c'è adesso ogni cinque anni i paesi sono sottoposti alla misurazione della riduzione del co2 quindi di colpo non a caso è successo quello che sta succedendo di questa spinta no anche della new european bauhaus cioè tutti sono fatti la domanda ma ma come facciamo perché l'industria è quella che è la cultura è quella che è non è che poi vincere una battaglia con dei vecchi strumenti se la battaglia una battaglia diversa quindi tecla era un po rompere questo paradigma di allora se nell'agenda metto prima 0 co2 chilometro zero materiali naturali impatto zero non è che ho tante opzioni sul tavolo quindi quella era una risposta a quella domanda poi tecla non nasce per dire diventerà il modello della casa del futuro perché non è questo è stato un esperimento che è stato fatto è riuscito montato fatto abbiamo misurato sappiamo come si fa ora dobbiamo fare un passo avanti però era un po questo il senso di dimostrare che lo che si può fare non che in edilizia è una cosa fondamentale perché se non l'hai mai fatto non lo fa nessuno qui tecla è un po quella e poi era anche un link con la storia dell'umanità cioè noi abbiamo costruito palazzi abbiamo costruito città di terra perché quello c'era e con quello abbiamo fatto c'è un architettura straordinaria nel mondo della delle culture dell'umanità di questo delle costruzioni di terra e costruire una casa così è un po come dire e aver riagganciato un pezzo della storia che si è interrottano quindi quando vedi quella casa lì in qualche modo riscopri un po come quando si è detto una foresta non sia una foresta c'è un po c'è paura dopo un non so perché il tuo corpo sente che avevi bisogno di quella natura mentre una casa fatta così e di colpo ti sembra di aver agganciato la nostra storia no quindi quello dimostra anche che la materia importante che la materia la senti se un pezzo se sei una stanza di ferro di mattoni o di terra lo senti non so è un'empatia il corpo assente queste cose quindi questo è un po l'esperimento di di tecla che adesso andrà avanti sotto altre forme altri esperimenti no e il museo etrusca invece è un'avventura completamente diversa perché abbiamo usato per questo è un museo dentro una casa della fine dell'ottocento e quindi c'è un tema anche di come adatti l'architettura di quel periodo a un museo a milano c'è la tradizione delle case museo cioè le case delle famiglie nobili che lasciano eredità lasciano poi le loro collezioni questa è un po l'idea di una casa museo ma non è la casa di una famiglia che lascia quello che c'è e dice adesso ho abitato qui 150 anni ora la faccio l'intero museo entri e vedi cosa c'era in casa quelle sono belle cose ma questo è diverso no questa è una famiglia famiglia rovati che non sono grandi collezionisti di arte antiche arte contemporanea e che hanno deciso di mettere in pubblico la loro collezione quindi è un museo aperto al pubblico cioè farà parte dei musei milanesi italiani però la storia è abbastanza interessante che qui stiamo parlando di un segmento della storia di etruschi che è di nove secoli la storia sono quasi mille anni etruschi parliamo di un segmento che va tra il quarto e quinto secolo quindi una collezione che guarda un'evoluzione della terracotta che passa da grezza a molto fine talmente raffinata che è diventata nera come fosse un vaso di metallo quindi raccontiamo questa storia di come il mondo dell'arte ha interpretato questo viaggio della morte perché sono le prime forme di religione no pagane ma le prime per cui non muori mai ma va in un altro mondo c'è tutto il vasellame le sculture le cose raccontano questo passaggio abbiamo fatto museo ipogeo un po perché l'architettura etrusca non c'è se non le tombe etrusche di cerveteri qualcos'altro che sono questi cumulino questi dove sono nascoste tra parentesi gli affreschi da cui si è potuta ricostruire qual era la vita gli abiti colori di queste di questa civiltà quindi entra in questo museo sotterraneo che tutto fatto come la pietra serena che viene qui dalle dalle nostre montagne dell'apennino tosco emiliano e fai conto che io sono andato a vedere le cave praticamente da qua da firenzuola fino alla toscana c'è una vena c'è tutto il l'apennino è una vena di 13 gradi quindi quando aprono le cave le cave sono tutte inclinate sono fatte così le cave perché vanno a tagliare gli strati di pietra serena che ha colori intensità diversa secondo la profondità sono 30 mila pezzi sono 700 mila bulloni questo museo e sono tutti i pezzi che sono stati disegnati da noi fatti gli esecutivi dettagli spediti a questa azienda che sta sui colli casone e quel quell'azienda ha ottimizzato i pezzi li ha messi in una lastra e ha tagliato per sei mesi pezzi pezzi lunghi un metro e mezzo di pietra serena oggi il museo è praticamente la parte diciamo architettonica è finita ma la particolarità è che è un luogo ibrido no perché musei archeologici sono molto spesso un po legati agli sovraintendenti ciali specialisti tu vai a vedere un museo archeologico o conosce la storia o sai perché ci vanno fatti sennò dopo un paio che praticamente noioso quindi come fai a fare un museo archeologico emozionale senza che sia uno spettacolo l'architettura gioca un ruolo fondamentale perché quando scendi sotto in queste tenebre in cui senti questa pietra che ti avvolge ci sono queste teche che il museo è molto morbido è tutto sagomato è molto molto disegnato le cupole tutto non ci sono angoli tutto smussato dentro ci sono delle scaglie di vetro molto spigolose che sono un po il cristallo che trovi dentro una pietra e dentro quei cristalli c'è questa collezione che è curata da salvatore setis dove abbiamo messo insieme sia i pezzi storici ma anche i pezzi contemporanei per creare anche una specie di shock perché tu vedi un pezzo di picasso a fianco di un pezzo del quinto secolo oppure vedi una testa di marini vicino a una testa fatta nel quarto secolo questo è anche per dare un messaggio importantissimo che l'arte è una storia continua non c'è una frattura non c'è frattura e noi li abbiamo creati le fratture col modernismo non abbiamo rotto quella 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 continuità allora vedere un pezzo di marino marini e un vaso etrusco di un artista di cui non si conosce il nome ma di cui capisci che c'è un'affinità è anche un po per dire che siamo cento per cento natura ma siamo anche cento per cento cultura e questo è questa è la nostra storia no quindi un museo che racconta l'archeologia con una visione di questo tipo non c'è c'è una cosa meravigliosa poi passi ai piani di sopra c'è una grande collezione d'arte contemporanea c'è anche un pezzo di andy warlord quando è stato a pestum e poi è venuto nelle aree dell'etrusca ha visto questi due sposi c'è una scultura con i due sposi una scultura sdraiata e lui ha tornato new york ha rifatto questo disegno ed è l'unico pezzo che racconta questo legame che lui ha avuto con questo viaggio italiano e poi ci sono delle opere fatte su nelle stanze apposta per rendere quel museo non una collezione di pezzi di proprietà ma un quelli che chiamano site specifico sono degli interventi molto mirati quindi è un viaggio un po nella storia anche di un palazzo che ha avuto una storia importante la famiglia bocconi poi è diventato il palazzo della famiglia rizzoli carraro e nel tempo il piano nobile è stato disegnato da questo architetto milanese perego che per la borghesia milanese negli anni settanta faceva lo stile impero francese quindi abbiamo lasciato le boiserie quindi è un viaggio tra le tenebre di un museo etrusco salendo dentro la borghesia milanese che si racconta attraverso i suoi arredi poi c'è una grande salone che è dedicato alle mostre agli incontri le conferenze poi c'è un ristorante sul top quindi è un viaggio nel tempo dal progetto fondazione rovati di cui parlavamo prima un progetto che è sul nostro sul nostro territorio a peccioli questo innesto di questa architettura che così ha suscitato interesse anche tra tra i colleghi e che addirittura sta anche generando una specie di turismo si sta andando a vedere questo questo nuovo progetto se puoi parlarci di questo diciamo dialogo tra contemporaneo e questo tema del rapporto tra tra il contemporaneo e la città storica è un po il nostro grande peccato originale cioè non siamo più riusciti a superare questo questa barriera e peccoli in fondo rappresenta un po questo e che è quello che abbiamo detto per esempio in biennale a nelle arcipelago italia che il rilancio delle aree interne e dei borghi passa attraverso l'architettura contemporanea cioè se io all'interno di un borgo con il rispetto di tutte le norme riesco a inserire non incastonare un pezzo di architettura contemporanea in cui io mi sento nel mio tempo questa cosa è molto importante perché rilancio meccanismo come peccoli no peccoli e anche grazie a un sindaco renzo macelloni che è un che è un uomo di grande grande tenacia nonostante le mille difficoltà che abbiamo trovato però ci vuole da una parte una politica ci crede davvero e dall'altra parte avere un po quella giusta misura anche se a peccoli recupera dell'edificio storico diciamo è stato come dire anche abbastanza ordinato abbiamo rifatto le scale rimesso l'ascensore fatto questi bo window queste finestre che guardano il paesaggio e poi però dentro c'era anche uno scopo è un luogo pubblico sotto c'è una mediateca una biblioteca c'è un c'è una piazza nuova che nonostante ci siano guarda questo paesaggio si getta verso questo questa valle anch'io sono rimasto sorpreso dell'interesse anche del mondo professionale per i suoi professionisti che si amano molto quindi il fatto che si vada a vedere questa specie di miracolo di aver inserito in una città storica un pezzo di architura contemporanea anche gentile anche se non è mimetica cioè si vede secondo me è un po il meccanismo che dà un po di fiducia al fatto che si possa veramente fare ricostruire questo dialogo con la storia grazie mario per questa conversazione grazie a voi